Partito? Partito! Ti amo la vita mia! Sì! Amo! O non amo? Sì, 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 sì. Allora, e questa è l'acqua, guarda come fa l'acqua, vedi? La sinistra, a destra, ecco, e siamo qua. E queste sono le termine di Mercurio, che si accedeva giù alla piscina. Ah, questa è la piscina? E che è la piscina? Ah, era la piscina, però! È una piscina fermata. Si dice che veniva l'acqua calda, stiamo registrando, non c'è l'acqua calda, che veniva convogliata attraverso dei tubi, che arrivavano fin qui alla piscina. E perché l'hanno chiusa? E questo chi è? Oh! Mi piace tutto questo blog, è meravigliosa. Facciamo le sceme. Ho proprio una cosa... Allora, è questo punto. Ciao! Bye bye! Ciao, ciao! Eccolo! Questo è il riflesso, questo è il riflesso. Uh! Oh! Grazie.